Così è apparsa questa mattina Villa Faragola, l'importante sito archeologico, la villa romana tardo antica che si trova nelle campagne di Ascoli Satriano. Un incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato ieri notte intorno alle 2 sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Come potete vedere è stata completamente distrutta la copertura della villa. I danni sarebbero ingenti anche se ancora da quantificare. Da indiscrezioni pare che gli investigatori non abbiano trovato tracce di liquido infiammabile o innesti. Non si esclude dunque che possa trattarsi di un incendio accidentale. La zona archeologica è inoltre sprovvista di telecamere di videosorveglianza. Ora bisognerà verificare se le fiamme abbiano danneggiato mosaici o la preziosa pavimentazione in marmo della villa romana. Da alcuni mesi il cantiere è stato sospeso in attesa della ripresa per il completamento del terzo lotto dei lavori di sistemazione, con le installazioni multimediali, il percorso di visita, lo spazio informazioni e il laboratorio didattico per i bambini. La villa, forse appartenente alla famiglia senatoria degli Scipioni Orfiti, era sorta sui resti in un insediamento da uno del IV-III secolo a.C. di una fattoria di epoca romana. Il sito venne quindi occupato da un villaggio alto mediale. L'area, acquistata nel 1997 al comune di Ascoli-Satriano, è stata oggetto di scavi archeologici sistematici a partire dal 2003. Nel 2009, invece, il sito è stato parzialmente aperto al pubblico. Villa Faragola è un sito archeologico quasi uno dei più importanti di tutto il territorio. Pensate che nel pomeriggio è un'attesa di circa 250 persone e nei prossimi giorni anche americani.